Rappresenta l'emblema di una squadra che gioca benissimo, di una società che sta operando molto bene, con un allenatore che è un valore aggiunto perché Simone Inzaghi sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori d'Italia. Ma io penso che Immobile stia facendo cose straordinarie, ma sono quattro anni che sta facendo cose straordinarie Immobile.